Benvenuti telespettatori. Interrompiamo la normale trasmissione per un fuorionda speciale. Come previsto, il team di The Sims ha rilasciato i nuovi kits in data 18 aprile. Si tratta di omaggio urbano e feste da manuale. Scusa, ma allora dov'è lo speciale? Sì, dalla regia effettivamente mi dicono che potrebbero essere i peggiori kits mai rilasciati. Abbiamo preparato un servizio speciale, soltanto per voi, dedicato a nuovissimi kits. Degno dei migliori servizi di studio aperto in pieno luglio, quando si suggerisce ai cittadini più anziani di non uscire nelle ore più calde e di ricordarsi di bere spesso. Prego, il servizio. Regia, il servizio. Il servizio, mannaggia la miseria. Sì, eccoci, abbiamo avuto un bug. No, non si può dire. Sì, dunque, un problema tecnico-tattico. Allora, la community di The Sims ha lamentato più volte della scarsa originalità dei kits più recenti, chiedendosi più volte come mai non sia possibile includere i nuovi elementi dei kits in aggiornamenti possibilmente gratuiti del gioco base. Ebbene, cari spettatori, Neanche noi abbiamo una risposta. Però dalla regia abbiamo ascoltato con attenzione i pareri dei giocatori in questa speciale occasione con cordi e uniti più che mai sul fronte. Al 99,9765,3% i telespettatori hanno votato a favore del riciclo di oggetti ripescati da vecchie collezioni. E questa volta non si tratta, purtroppo, di un tema vicino all'ambientalismo. Il kit omaggio urbano, che vediamo in sovraimpressione, è stato accusato di essere un set di scarti del kit moda-retro, di cui però si condivide sicuramente lo spirito nostalgico degli anni 90. In questo fuorionda speciale per voi, cari telespettatori, abbiamo portato a processo i due kit incriminati, omaggio urbano e moda-retro. E li abbiamo portati qui, sulla scena del delitto, il crown sim, per facilitare le testimonianze colpevoli. Ora, con una sfilata che ne è anche nelle migliori puntate di Ciao Darwin, facciamo sfilare. Eva. Ecco Eva per gli abiti quotidiani in omaggio urbano. Riporta in scena la classica salopette, con stivali col tacco e una dose infinita di gioielli, da 25 mila anelli a piercing sul viso e orecchini super ingombranti. Dall'altro lato sfila per noi, Eva, per moda-retro. Con un completo che sembra molto club di golf degli anni 90, ma con colori psichedelici. Sarà stato il cappello. Per la versione donna che non deve chiedere mai, come direbbe Bonolis, abbiamo Eva per omaggio urbano. Questo è il set da vedo-non-vedo che non lascia molto spazio all'immaginazione. E non fatevi ingannare da colori neutri. È stata una scelta della regia. Dall'altro, per moda-retro, abbiamo Eva, che non rinuncia mai alle vibes sportive, anche in versione sensual. I colori neutri non sono un'opzione per lei. Non vuole assolutamente rinunciare ai colori flescianti. Per gli abiti da festa, omaggio urbano con Eva. C'è omaggio di questo set top e jeans, forse per una festa in maschera, in cui anche le simmine più nostalgiche possono sentirsi un po' farfalline, un po' ambientaliste di evergreen arbor. Per la festa in maschera di moda-retro, chiaramente Eva sarà andata alla sfilata a tema football. Ma in questo set, perfettamente in pendone, la vediamo che sfila mentre sogna un giorno di partecipare all'NBA. E infine, per il set da colonna sonora, Eva, di omaggio urbano, ci propone questo set che urla Festival Bar, quell'anno in cui vi erano le Spice Girls, ma anche i Backstreet Boys, e forse anche un revival dei Police. Al Festival Bar, Eva, di moda-retro, invece c'è andata sempre con la stessa tuta. La Eva, di moda-retro, ama il comfort e neanche il sorriso di Nick Carter avrà la priorità sul contapassi. Per l'uomo, Jordan dal palco ci fa velocemente vedere il guardaroba, ma non sfila, perché in omaggio urbano non ci sono scarpe e lui è ai piedi alquanto delicati. In omaggio urbano abbiamo un mix tra vita ecologica, vita da liceali e maglietta da fan incallitto di... qualcosa. In moda-retro può praticamente rubare i vestiti dall'armadio di Eva. Bene, direi che per i kit del CAS è tutto. Passiamo la linea allo studio per i kit sulla modalità Compra-Costruisci. Sì, grazie per la linea. Effettivamente siamo in diretta da Willow Creek con la famiglia dei Loves, già protagonisti di un precedente servizio sul kit Grunge & Book Nook. Allo studio avevamo detto! Ora finalmente possiamo vedere in retroscena di quando la figlia Courtney è andata via da casa. Infatti sono così dispiaciuti che sembrano stiano scegliendo il posto perfetto dove organizzare la loro festa di libertà in qualità di classici genitori da adolescente impazzita. Sembra essere una festa specifica, ma vediamo più nel dettaglio cosa sceglieranno. Dopo il risultato del voto, 5.4 per 4.9 elevato alla seconda, secondo cui gli elementi di feste da manuale erano rimasugli di feste di lusso. Mora, prego, il servizio. Regia, il servizio. Oh, ma che c'ho vede oggi con sti servizi del... Sì, eccoci qui con i signori love alle prese con la scelta della location, dove si trovano a scegliere tra i due kit, i re delle feste, feste da manuale e feste di lusso. Da questo lato i signori stanno scegliendo una sala esclusivamente a tema feste da manuale, dove possono trovare un nuovo bar, nuove luci a LED, nuove decorazioni da muro e clutter. Poster, televisione con luce a LED, palloncini, una nuova pista da ballo, trasparente e addirittura c'è la nebbia. Dall'altro sembra che i signori abbiano un certo gusto specifico per le stanze quadrate, con un parchè di legno scuro, delle carte da parati beige e marroni e due finestre per lato. Ma l'arredamento, seppur mantenga la stessa disposizione, è completamente diverso. In questa seconda sala, infatti, è tutto gioco base con dei dettagli di feste di lusso. In questo caso di lusso c'è poco. Ci sono tanti elementi di LED e luci, ma basti pensare che la pista da ballo è di usciamo insieme. Però qui abbiamo la fontana di cioccolato e lo spettacolo di luci laser. Bene, la situazione sta sfuggendo di mano. Poi la linea in studio. Sì, grazie per il servizio. Allora, mi mandano questo comunicato dalla regia. Ci scusiamo con i telespettatori per aver lasciato intender che i due kit omaggio, urbano e feste da manuale, possano essere stati retti di altri pacchetti. Sebbene siano in linea con molti altri pacchetti già rilasciati o con le stesse funzionalità del gioco base, quali le feste, ad esempio, i nostri servizi del fuori onda speciale hanno dimostrato come gli oggetti, seppur in quantità limitate, siano alquanto unici e con delle peculiarità uniche. Qualora siate alla ricerca per i vostri sims di abbigliamento retro, che non sfoci nel grunge o che non sia apto a partite da golf, la regia vi invita a provare il kit di omaggio urbano. Se abbiate un giorno di un'occasione da festeggiare, che sia l'abbandono del nido familiare di un adolescente rompiscatole o la festa dei 40 di Don Lotario, la regia vi suggerisce l'acquisto di feste da manuale. Se nessuno dei due dovesse essere di vostro interesse, non disperate. Presto, un nuovo comunicato sulla nuova roadmap per i prossimi tre mesi arriverà e si vocifera in redazione che si tratti di fate. Grazie per l'ascolto e buon proseguimento! Non sei più in onda? No, ma vabbè, ma questo è davvero orribile, oh! No, che bel effetto! Oh, ma dove hanno questi? No, no, ho capito! Ma che bella questa ripresa! Ehi, dovremmo assumere lo staggista! Regia? Ma lo mandi il servizio? Lo mandi il servizio oppure no? Regia? Regia! Regia! Regia!